Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo scopriamo insieme le creazioni resina allora questa volta abbiamo tema zampotte o tossicini e tema smalto perché qui ho provato ad usare gli smalti quelli che si usano per le unghie ne avevo di vecchiotti ma carini nel mobiletto per cui ho voluto provare a fare i particolari con gli smalti tranne questo qui che è un piccolo cameo che ho riesumato non so dove per cui sono anni che ce l'ho e addirittura questo non è per la resina ma era per fare le decorazioni per i dolci però è sempre comunque in silicone e questo è uno scartino iniziamo subito da questo qui non c'è smalto è soltanto uno scarto e che non ho mai fatto e questo stampo qui e volevo vedere come sarebbe venuta la creazione è un pochino rigido lo stampo non è flessibile come come questi qui però vediamo come è venuto allora è un po in trasparenza per cui dietro ci dovrò mettere qualcosa però diciamo che anche come scarto è abbastanza lucido lo stampo non è male poi magari proviamo a mettere una base colorata dietro non lo so vedrò 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 e 1 vediamo adesso alle zampotte allora queste le ho fatte tutte a coppia questa ne è una vediamo subito come sono venute sono tre strati se vedete bene tre colate allora allora è un po trasparente si vedono le pennellate dello smalto e già questa cosa non mi piace ripeto questi sono smalti un po vecchiotti per cui non erano proprio liquidi però 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 allora io ho fatto gli cuscinetti delle zampotte con lo smalto viola non so perché dalla telecamera è blu ma vi assicuro che è un bellissimo viola allora però un attimino spegnere la lampada vediamo vediamo un attimo no è la stessa non è lo stesso colore qui è più blu al telefono è più blu ma dal vivo molto più viola e vabbè rimaniamo senza lampada perché sennò vi cerco anche perché si vedono meglio i particolari senza lampada va bene allora poi ho fatto uno sfondo bianco glitterato glitterato questo veramente iridescente sono micro 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 glitter per cui è un iridescenza e poi dietro ci ho buttato della della resina rosa lo stesso del cameo sono tutti fatti più o meno lo stesso modo però devo dire che il bianco un po perde li ho fatti tutti rosa sì per cui non posso vedere la differenza soltanto con il bianco ai 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 questa è una cosa male li dovevo fare differenti e va bene questa è la prima questa è la coppia il suo gemello eccole qui eccole qui ok e va bene poi 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 vediamo queste che ci ce l'ho smolto con i click perché sono queste due la coppia c'è un puntino al centro appena appena appiccicoso ma il resto è solido e ho carino carino forse era meglio non metterci lo strato bianco o forse era meglio farlo solo bianco dietro però non ho un pigmento che renda la resina come dire non non trasparente c'è un colore pieno non ho nel bianco nel nero non ho un colore rosso devo fare una scorta di pigmenti subito metto subito in lista però questo abbinamento di colori non mi dispiace il problema è che siccome qui lo smalto comunque era trasparente si vede anche il rosa sotto però non è male dai non è male non ci dispiace non ci dovrebbero essere bolle lo sento un pochino ruvido ma questo dipende anche dai glitter quando si mette lo smalto con i glitter un po' è ruvido a differenza della resina che lo riempie bene e va bene qui da lontano sembra anche più carino e questo è il suo gemello eccole qui senza sparaflesciarvi eccole qui questo è un'altra coppia di zampotte questa volta usato scusate un altro tipo di smalto sempre con glitter questi glitter sono molto molto brillanti mi piace si vede come sbrilluccicano come brillano in italiano sbrilluccicano un po' in dialetto però questo non lo fa forse perché sono più grandi si lo fa anche appena appena perché però sono più grandi questo vabbè qui glitter sono soltanto c'è soltanto la perlescenza della resina sotto però questo mi piace anche se è diciamo è un tono su tono perché qui glitter sono fucsia anche se voi li vedete rosa pallido e argento però dal vivo ragazzi è stupendo forse sotto ci dovevo mettere il bianco tutto bianco però forse posso rimediare con una spennellata di smalto bianco quello che si usa per fare le french che è un pochino più un colore un po' più pieno oppure proverò proverò a farlo quando avrò ordinato i pigmenti pieni proverò a rifarlo come dico io che questo va bene e questo è il suo gemello che non sono assolutamente male questa sembra un po' più bianca la zampotta forse perché no sembra la stesso è riempito allo stesso modo forse c'è andato non lo so questo sembra un pochino più bianco stavo dicendo una bagianata ma va bene passiamo agli ossicini allora questo qui l'ho fatto vediamo perché non mi ricordo se sì ci ho messo anche la base bianca qui però si vede sempre sul bianco il bianco trasparente prende sempre il colore che sta sotto per cui è quasi inutile farlo però va bene questi invece c'erano glitter soltanto bianchi e neri sempre smalto e non mi dispiace però certo questo rosa sotto ci stona proprio buono ci serve per imparare mentre questo non ci ho messo la base bianca ma è tutto tutta resina diciamo che è un mezzo scartino è tutta resina rosa e oddio no no questo lo smalto era molto vecchio e addirittura mentre lo spennellavo mi si aggrumava per cui è stato anche molto difficile stenderlo però però vediamo possiamo sempre fare la prova a mischiarlo con un po' di resina devo fare anche questa prova qui le ho fatte un po' troppo alte veramente però va bene dai e niente ragazzi questa è l'ultima colata che ho fatto questi sono gli stampi queste sono altre prove che ho fatto perché io comunque devo imparare imparo guardando gli altri ma imparo anche facendole le cose perché non è che vedo un altro youtuber che un altro artista perché io preferisco definirli chiamarli artisti anche se vedo e magari nel video vedo ho fatto questo errore mi è venuto così mi è venuto cosa però io sono una testona lo devo testare io con mano ci devo sbattere la testa anche perché solamente così riesco a capire come veramente devo colare mischiare i colori quali colori vanno bene come mi reagiscono i colori perché allora io ho iniziato da poco con i video su youtube e devo dire che ho iniziato soltanto con la resina anche se volevo partire con un altro argomento che diciamo ci sono praticamente nata e cresciuta ma poi vediamo in un futuro però sono partita con la resina perché non lo so ragazzi ci sono andati in fissa mi sono piaciute le cose che ho visto mi è piaciuto la modalità di elaborazione e poi comunque io sono una persona anche molto aperta a fare esperimenti e niente questo è il risultato adesso queste zampotte sono comunque stupende non sono perfette perché non sono proprio come le volevo però non sono male non sono comunque cose da cestinare perché una cosa che viene cestinata è quello che io definisco il fallimento queste però non sono venute male si possono sempre recuperare vi assicuro vi assicuro che dal vivo non sono come si vede dal telefonino perché sono molto più brillanti molto più lucide e i colori come al solito cambiano però 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 vanno bene anche così anche se dalla telecamera o dal telefonino perché io sto con il telefono non ce l'ho la telecamera ma mi è più comodo dal telefono perché registro e pubblico non non so lì a modificare video sono verace come li filmo li pubblico per cui mi è comodo più averlo sul telefonino che non dalla telecamera poi passarlo dal computer poi dal computer tutte le cose che che si fanno di solito io vado direttamente con il telefono vado registro e pubblico direttamente così per cui non non posso non è che non posso non c'ho voglia veramente di modificare i colori questo è blu ma dal telefonino è blu dal vivo è un viola stupendo e questo è il mio raccolto di oggi se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su scrivete nei commenti qualsiasi cosa vogliate scrivere senza offese mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale in modo da supportarmi in questa mia avventura e attivate la campanellina se volete la rottura di scatole perché effettivamente le notifiche sono una rottura di scatole in modo che vi arrivi la notifica per altri video che pubblicherò noi ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti